Lions Club Montalcino La Fortezza è sempre più vicino alla città. Questa volta lo fa con un'azione concreta verso il presidio ospedaliero della città del Brunello. In particolare, che cosa avete pensato di fare per questo piccolo ospedale di comunità? Allora, ovviamente i Lions devono essere al servizio del territorio dove abitano, ma al di là dell'appartenenza a Lions non dimentichiamoci che siamo montalcinesi, quindi c'è un forte attaccamento, poi a livello personale avendo lavorato per tanti anni qui sento molto forte l'attaccamento a questo presidio. Presidio che non dimentichiamoci, qualche anno fa ha ottenuto una certificazione di eccellenza per il ruolo che svolge nel territorio, per la qualità dei servizi che presentava. Quindi quando il dottor Dezio, che ringrazio ancora tantissimo perché ha dedicato la sua vita lavorativa a Montalcino con grande professionalità, ci ha detto che aveva difficoltà ad avere delle attrezzature per la sua attività, per l'attività dell'ospedale di comunità, come Lions abbiamo subito pensato di deliberarne l'acquisto e quindi oggi siamo qui per consegnarlo ufficialmente, questo videoproiettore e poi anche altro materiale che serve per i malati. Il piccolo ospedale di comunità di Montalcino svolge molte attività, soprattutto nel campo della diagnostica, relativi ai pazienti che già sono qui in degenza e anche all'esterno. In particolare, quali sono i numeri di questo ospedale? Noi facciamo dai 900 ai 1000 elettrocardiogrammi l'anno sui pazienti esterni e altrettanto di visite, circa 500 ecocardiogrammi, circa 800 ecodoppler tra arteriosi e venosi e circa 160-170 oltercardiaci e in più facciamo anche l'olterpressorio, i numeri sono su un centinaio, 110 circa all'anno. Poi c'è l'attività per gli interni che dipende dal numero dei ricoverati che abbiamo, ogni ricoverato facciamo un controllo anche dell'elettrocardiogramma all'entrata, nella visita ovviamente, più altri esami del sangue, esami diagnostici e controlli quando ce n'è bisogno e la visita spessissimo, oltre che quelli che facciamo fare ad altri, perché quando uno è ricoverato come quelli abbiamo noi, hanno bisogno di visita urologica, di TAC, torace, ecografie internistiche, visite neurologiche, visita ematologica, facciamo fare tutto quello che si deve fare. Un'attività diagnostica molto importante rivolta soprattutto alla cardiologia, perché? Un po' dipende dalla tradizione, perché io vengo dalla vecchia medicina che era qui una volta e mi occupavo soprattutto di cardiologia, per cui ho mantenuto questa attività che mi sta molto a cuore, ho cercato anzi di svilupparla, facendo venire cose che prima non avevamo, tipo l'ecocuore, tipo l'olter cardiaco, l'olter pressorio e tra l'altro mi piace, tra l'altro continuando sempre ad aggiornarmi, perché è tutta una materia che cambia ogni giorno, con molta difficoltà, perché lavorare in un piccolo centro così e restare aggiornati, restare a passo dei tempi non è un'impresa facile, più tutta la burocrazia che c'è, tutti i problemi di tutti i giorni sono tantissimi. È una cosa che mi piace molto, ho continuato, vorrei continuarla ancora e speriamo che non ci siano problemi per il futuro. Numeri importanti, tanti pazienti che arrivano e frequentano questo nosocomio e un po' dimostrano anche l'attaccamento della città di Montalcino a questo piccolo ospedale. Quanto è importante secondo lei il mantenimento di questa struttura in un territorio, in un comune così vasto e così lontano dai principali centri urbani? Secondo me è molto importante, molto importante perché noi svolgiamo qui un'attività medica, anche specialistica, c'è un poliambulatorio che quindi offre anche diverse altre specializzazioni agli utenti, dall'oculistica, all'odontoiatria, tutto il resto. È importante in una zona dove la popolazione è particolarmente anziana, ce n'è tantissima, ce ne sono tanti, dove non ci sono molte vie di collegamento facili con i centri più grossi, con gli ospedali più grandi, per cui suppliamo certe carenze che ci sono riguardo a popolazioni di un certo tipo e anche a una patologia di un certo tipo che è prevalentemente cronica.